L'importante è non farsi prendere dalla nostalgia, perché la nostalgia ti fa cascare in avanti, perché ti prendi già come stavo bene, ma non è vero. Maurizio Costanza, un gigante della TV e non solo che amava confrontarsi anche con le realtà locali. Era nato così, legame con Telemolisi è un legame durato anni. Questa è una delle diverse interviste che ci ha concesso nel tempo, ospitando la nostra emittente nel suo camerino a Teatro Pariolio, nel suo ufficio. Al direttore di Telemolisi, Emanuela Petescia, aveva parlato anche del Molise, promettendo di tornare a visitarlo. Ti posso strappare una promessa? Tornare in Molise? Parliamo di fine giugno, perché fino a che... Ma noi ti vogliamo ospite nei nostri studi. Va bene, sì, prometto. Poi c'è il capitolo più importante, quello del Maurizio Costanzo Show, istantanee dell'Italia, fotografie di un paese in profonda trasformazione, raccontate in diretta dai protagonisti di una società in continuo cambiamento politico e culturale. Anche sullo storico palco del Parioli aveva dato spazio a Telemolisi, ospitando il nostro direttore, in quello che oggi, mentre tutta l'Italia dice addio a Costanzo, viene ricordato come un faro acceso per quattro decadi sulla storia italiana, crocevia di incontri, spesso di scontri tra protagonisti della vita pubblica del paese, un vero e proprio salotto esclusivo, ma allo stesso tempo aperto a tutti.